In primavera si voterà Chieti per il rinnovo del Consiglio Comunale, nuovo sindaco, insomma ci sono molte probabilità che il centro-destra arrivi diviso da questa consultazione elettorale. State lavorando per cercare un'unità oppure insomma a questo punto andare uniti alle elezioni è molto difficile? No, l'unica certezza che io personalmente ma anche noi come gruppo di Forza Italia è quello che comunque andremo alle elezioni sicuramente uniti. Stiamo cercando una strada, un percorso alternativo che dovrà essere condiviso da tutte le forze di centro-destra e quindi della coalizione di questi ultimi cinque anni per poter aggregare quanto è più possibile liste o chiamiamola entità politica che vogliono condividere e continuare a condividere un percorso amministrativo con noi. Abbiamo proposto come Forza Italia le primarie ma come momento aggregativo e non sicuramente come uno di Minuzio. Chi vi parla è uno di quelli che ha sostenuto questa amministrazione, che ha lavorato benissimo così come anche il sindaco di Primio e questo poteva essere, vi ripeto, un momento di aggregazione per quanto riguarda altre liste per poter partecipare eventuali primarie che non vediamo come una sconfitta del sindaco uscente, anzi una sicura che secondo me riconferma e quindi che potremo andare comunque sereni alle elezioni ma abbiamo preso lezioni per esempio da Pescara che andando divisi non si raggiunge nessun risultato. Quindi Di Primio potrebbe essere il candidato unico per il centro-destra? Ma certo Di Primio può essere e ancora il sindaco del centro-destra, vedremo in questi ultimi giorni in cui si stanno sviluppando tavoli e riunioni per definire questa situazione ma io credo che comunque il centro-destra inteso o classicamente inteso sicuramente non andrà diviso e su questo ci sarà anche il mio personale impegno di altri consiglieri.